Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Ne parleremo nel corso della nostra rassegna stampa anche rivedendo alcuni servizi realizzati dal TG6. Allora iniziamo la nostra rassegna subito con i quotidiani locali, le prime pagine. Partiamo dall'edizione pescarese del centro. La cronaca, ragazza aggredita sul lungomare, minacciata con una bottiglia rotta, arrestato un parcheggiatore abusivo. Sotto la testata, code alle asle in Abruzzo, vaccini, le famiglie in fila per iscrivere i figli a scuola. E poi scendiamo al centro pagina la fotonotizia comune alle quattro edizioni del centro. Abruzzo in fiamme, il procuratore Bellelli accusa piano criminale, un errore, eliminare la forestale. Poi la risposta al centro, il capo del Dipartimento di Protezione Civile, Angelo Borrelli. Protezione Civile, noi ci siamo. E poi alcuni richiami per fatti nazionali e internazionali. Germania, infermiere killer, uccisi 86 pazienti e poi migranti. L'Unione Europea non lascia l'Italia da sola. Di spalla, poi leggiamo, tornando a Pescara, gli anziani, geriatria senza condizionatori. E poi per lo sport, calcio, Pescara e Zeman, ecco i segreti del superavvio. In basso il buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna, cos'è il peccato nell'era dell'autoindulgenza. Andiamo avanti e siamo all'edizione aquilana del centro. Ecco l'apertura, volontario colpito da un masso sul Mona, grave incidente sul Morrone in fiamme, un trentenne e in rianimazione. Poi i richiami di spalla nella prima pagina dell'edizione aquilana del centro. L'invito, la perdonanza avvicina il Papa all'Aquila. E poi Tagliacozzo appicca il fuoco a una palazzina, rischio esplosione. Andiamo ora all'edizione di Teramo del centro scuole. I MUSP dureranno trent'anni. Brucchi ottiene moduli più resistenti, potranno ospitare 600 alunni. E poi siamo ad Albadriatica. Ecco qui Viviani, basta migranti. E il PD si spacca, Gabriele Viviani, il segretario del PD ad Albadriatica. Poi l'impresa, l'uomo Plasmon battuto un altro record per Gabriellino Fioramante Palestini. Siamo all'edizione di Chieti del centro con il titolo d'apertura dedicato alla cronaca. In trappola i rapinatori di anziani si spacciano per dipendenti Asra e strappano collane alle vittime. Due gli arresti. A vasto acqua chiesta l'emergenza nazionale per il calcio. Ecco i calendari di eccellenza e di promozione. La prima pagina del messaggero Abruzzo, incendi, massima allerta. La valle Perigna circondata dalle fiamme, minacciato il centro abitato di Bagnaturo. Altri roghi in tutte le province. Ed Alfonso chiede a gentiloni più uomini e canadere. Poi sotto la testata Chieti, anziano picchiato e rapinato, coppia di cugini, finisce in carcere. Pescara, ragazza aggredita dai banditi sul lungomare, caccia alla gang. A vasto diga di Chiauci, a secco e emergenza nazionale. Ieri in comune tutte le istituzioni coinvolte nella carenza idrica. L'acqua verrà portata con le autobotti a un potabilizzatore. E poi di spalla, attraversata in pattino, nuovo record di Gabriellino. E poi leggiamo qui in taglio medio, Palestini ce la fa in 28 ore e dedica la vittoria a Giovanni Falcone. Sempre in taglio medio la fotonotizia. Il Pescara di Zeman fa già sognare dopo lo splendido debutto all'Adriatico. Fermo biologico, adesso il pesce arriva dalla Croazia. Da ieri le imbarcazioni ferme nei porti, ma sull'altra sponda dell'Adriatico si pesca. E poi in basso, all'Aquila, sfila il corteo della perdonanza. Andiamo ora a vedere la prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo. I MUSP non saranno dei container. Il sindaco di Teramo strappa costruzioni in metallo. Saranno integrate nel polo scolastico. Sotto la testata, l'emergenza estiva, oggi serve più tempo per domare gli incendi. E poi la cena da Manetta a Roseto. Prove tecniche di alleanza tra Gatti e Sottanelli per la politica. A proposito di politica, l'editoriale del direttore Alessandro Misson. Quel che resta per Brucchi. In taglio medio la fotonotizia. Ecco il terzo polo. Proposta una scuola al parcheggio di San Gabriele a Teramo. Di spalla ad Albadriatica. Caso migranti. Poste di viviani ingiustificabili per un dem. Poi scendiamo ancora. Affidato il progetto del Cursal. L'architetto Cristian D'Antonio curerà la ristrutturazione. A Roseto le strisce blu piacciono solo ai turisti. E per lo sport serie C 48 ore di tempo per chiudere la rosa del Teramo Calcio. A fine mese, quindi tra pochissimi giorni, ci sarà lo stop al calcio mercato. Possiamo lasciare le prime pagine locali, dei quotidiani locali. Andiamo a vedere ora le prime pagine delle testate nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera. Migranti militari in campo. Macron, soldati per le identificazioni in Africa. Perfetta l'intesa Roma-Tripoli. Accordo europeo con Niger e Chad. Gentiloni, finalmente una strategia chiara. Sotto la testata Lorenzin dovete chiarire. Acqua ridotta nelle abitazioni. Ancora tensioni a Roma. L'editoriale di Franco Venturini. L'Unione Europea, gli sbarchi, una svolta e alcuni ostacoli. E di spalla polemica a Londra. Bimba affidata a coppia islamica. Via il crocifisso e i cibi impuri. Scendiamo a centro pagina. C'è questa particolare fotonotizia. Oscar e Nina una vita a ballare il tango perfetto. Vedovi, 90 e 82 anni, hanno incantato ai mondiali di Buenos Aires. Poi ancora tensioni internazionali. La Nord Corea lancia un missile. Tokyo è grave. Ha sorvolato il Giappone. La prima pagina di Repubblica. Ecco l'apertura. Corridoi africani sempre più stretti. E nel deserto la strage dei migranti. Macron e Merkel al vertice di Parigi. Rivedere le intese di Dublino. Gentiloni, il vento è cambiato. E poi di spalla il racconto. L'uragano non spegnerà il cuore del mio Texas. Un racconto appunto in prima persona di quanto sta avvenendo nello Stato americano. Con l'uragano che sta flagellando il Texas. E poi a centro pagina la fotonotizia. La sfida di Kim lancia un missile verso il Giappone. Nuova minaccia della Corea del Nord. Allerta a Tokyo fra la popolazione. E poi in taglio medio. Abusivismo. Incentivi a chi abbatte e ricostruisce nei progetti del governo. Via Tasi e Imu per cinque anni sulle case illegali che verranno demolite. Andiamo ora a vedere la prima pagina della stampa. Ecco l'apertura. Immigrazione. Il patto di Parigi. Centri di identificazione in Nord Africa. Macron. Perfetto il lavoro dell'Italia con la Libia. Al vertice anche i leader di Chad e Niger. Il premier di Tripoli. Gentiloni. Chiediamo che l'Europa ci aiuti di più. E poi scendendo a centro pagina ecco il super algoritmo che fa correre la borsa. Da Wall Street a Singapore un sistema di piattaforme online permette di guadagnare senza intermediari. La prima pagina del Sole 24 Ore. Il titolo d'apertura nella manovra. La proroga del super ammortamento. La fiducia delle imprese ai massimi da dieci anni. Prende quota l'inserimento nel capitolo industria. Pensioni. Ipotesi. Miligaranzia per i giovani. E poi leggiamo Macron e Merkel su migranti a Libia, l'Unione Europea e con l'Italia. Boccia a Parigi. Questione industriale decisiva per il futuro dell'Europa. Siamo all'apertura del fatto quotidiano. 80 miliardi di soldi pubblici ma Confindustria batte cassa. Dopo tutti i regali governativi. Boccia chiede altri 10 miliardi. E poi questi due titoli sotto la testata. Vaccini. Altro disastro. C'è il problema privacy. Senza garanzie. Niente scambio di dati. E poi regionali. Sicilia. Alfano si perde i pezzi. E Pisapia vacilla. La sfida nell'isola. E il centro-sinistra in pezzi. La prima pagina del messaggero Abruzzo. Migranti identificati in Africa. Vertice di Parigi. Decisi posti di controllo nei paesi subsahariani. Per regolari flussi. Previsto l'invio di militari europei. Macron e Merkel. Perfetto il lavoro dell'Italia in Libia. E poi sotto la testata. L'anniversario. Non c'è pace per Lady Di. Lady Diana. Troppi misteri nell'incidente. Per il calcio mercato. Preso Schick. L'acquisto record della Roma. Vale 40 milioni. E poi ancora andiamo a centro pagina. Intanto con la fotonotizia. Abbiamo già visto su Repubblica la furia di Harvey sul Texas. 30 mila sfollati. La tempesta passa in Louisiana. Trump parla di stato d'emergenza. E poi di spalla. Palazzo occupato. C'è l'associazione per delinquere. In chiesta di Igos in via Curtatone. Favorivano l'immigrazione clandestina. Affari stile B&B. E poi in basso. Un computer scoverà gli assenteisti. Inps. Algoritmo. Deciderà le visite fiscali ai dipendenti. E poi meno acqua di notte. Per siccità nella capitale. Ridotta la pressione. Dal centro a Fiumicino. Il tempo. Ecco l'apertura. Roma come Beirut. Una nostra cronista nella capitale del Libano. Ritrova gli stessi identici problemi della città eterna. E sul blog di Grillo escono reportage dei ranti. Sul miracolo della giunta Raggi. E poi. Niente acqua. A chi abita. Ai piani alti. Per la siccità. La CEA sarà costretta a ridurre di notte la pressione nei rubinetti. Da settembre. Disagi nella capitale. Poi per lo sport. Giallo Rossi più chic. Colpo da 42 milioni. Ora caccia un difensore. La prima pagina del manifesto. La scoperta dell'Africa. Dopo decenni di sfruttamento. Nelle risorse africane di corruzione delle leadership e di commercio di armi. L'Unione Europea con il vertice di Parigi torna nel suo cortile avviando in Libia. Niger e Chad. Un sistema di controlli per fermare la disperazione di chi fugge da miseria e guerre. Poi sotto la testata leggiamo prof in sciopero. Niente esami. Protesta nelle università per gli scatti in busta paga. La prima pagina dell'avvenire. L'Europa ci prova. Il piano ONU-Unione Europea sulle emigrazioni. Liste e viaggi sicuri per i rifugiati. Alta i trafficanti in Libia. Nel vertice di Parigi con alcuni paesi africani. Macron spinge per un'azione rapida. Lodi all'Italia. Gentiloni. avanti nell'accoglienza. E poi in basso leggiamo Londra. Bambina cristiana in affido a coppia islamica. Rivelazione del Times. L'accusa plagiata. Libero. Ecco il titolo d'apertura. Teoria shock di un capo musulmano. Le donne stuprate godono. Così un mediatore culturale che lavora per favorire l'integrazione. Ha commentato la violenza subita dalla ragazza polacca in spiaggia. Opera di quattro nordafricani. Ecco cosa attende le italiane se non sapremo opporci alla civiltà islamica. E poi la fotonotizia al centro. Diana vale più da morta che da viva. 20 anni dal decesso. Si parla solo di lei. Avanti con la verità. Ecco il titolo d'apertura. Convertita con la forza a 5 anni. Integrazione alla musulmana. Bimba cristiana affidata due volte a famiglie islamiche. Via crocifisso e pasta alla carbonara. Obbligo di imparare l'arabo. E il papa non ha nulla da dire. E poi la fotonotizia. Vaccine a scuola. Un guazzabuglio. E loro due ridono. Loro due sono le ministre fedeli. E Lorenzin. Poi in basso. In taglio medio. Giovani e pensionati. Il PD scontenta tutti. I provvedimenti economici pensati in vista della finanziaria. Si rivelano per quel che sono mosse elettorali. Che per di più spaccano il partito. In fazioni divise da due opposti obiettivi. Entrambi inutili. Questa è la prima pagina della verità. Andiamo a chiudere con il secolo XIX. Migranti sì al modello Italia. Macron e Libia. Lavoro di Roma perfetto. Ok ai centri di accoglienza in Africa. Intesa al vertice di Parigi. Anche con Merkel. E Gentiloni rilancia con l'Unione Europea. Più sforzi. Abbiamo anche il mattino. Quindi vediamo anche l'apertura del mattino. Migranti nelle ville dei Boss. Scontro. Il Viminale frena. Misure limitate temporanee. I sindaci servono fondi. Oggi il vertice con i comuni sugli sgomberi. Ma è polemica sull'ipotesi di utilizzare i beni confiscati alla mafia. Lasciamo i quotidiani nazionali. Torniamo a quelli locali. Andiamo a sfogliare le pagine del centro. Con l'argomento più tristemente attuale. Che è quello degli incendi. Siamo a pagina 2. Sono tutti roghi dolosi. Il piano è criminale. Parla il procuratore. Accuse pesanti del magistrato Bellelli. Un errore. Eliminare la forestale. È venuta a mancare l'esperienza di chi sa spegnere fuochi in montagna. E poi ancora scendiamo in basso. Vietato sorvolare ci sono i Canadair bloccati. I droni anti incendio. È polemica tra parco e vigili. Andiamo avanti a pagina 3. Ecco qui borracce incendiarie, gatti e batterie. Ecco gli inneschi. Apprezza. Usato un cordone di plastica a combustione lenta. C'è l'immagine. Sul morrone trovate più pille collegate da un filo di ferro. In un caso l'accendino. E qui troviamo alcuni di questi sistemi per l'innesco. Ecco qui filo di plastica a combustione lenta. Usato apprezza. Qui la carcassa di un animale. E poi qui un altro sistema. Una borraccia incendiaria. E poi ancora andiamo a pagina 4. Incendi. Ci sono le reazioni. Regione sotto accusa. D'Alfonso. Grande sforzo. De Petris sottolinea i ritardi e le inefficienze. Critiche da Marcozzi e Febbo. MDP scrive Gentiloni. Stato di emergenza per l'Abruzzo. Poi scendiamo in basso. WWF. No al rimboschimento. Sia la ripresa naturale. Il 13 settembre vertice in Regione. Poi agronomi e dottori forestali. Di Pardo. Il parco sbaglia nella gestione delle foreste. Pagina 5. In questo caso il tema è quello delle vaccinazioni. Famiglie in fila alle ASL. Corsa per mettere in regola agli alunni fino a 16 anni. Tempi stretti soprattutto per l'iscrizione a nidi e scuole d'infanzia. Gli studenti della scuola dell'obbligo dovranno presentare la certificazione entro il 31 ottobre. Per i più piccoli la documentazione va anticipata al 10 di settembre. 10 le malattie da immunizzare. Poi le parole del ministro Fedeli. Nessuna proroga per i certificati. La ministra esclude deroghe dagli obblighi vaccinali. Preoccupa il carico burocratico per gli istituti. E andiamo ora alla pagina di Pescara. Alle pagine di Pescara. Ospedale. La protesta. Geriatria scoppia di caldo. Condizionatori fuori uso. Impianti fuori uso dal 16 agosto. E gli apparecchi portatili attendono il collaudo. In basso, aggrediti dal servizio d'ordine. Tre giovani sporgono denuncia. Stavano ballando in un locale della riviera Nord. E poi paura sul lungomare Nord. Minaccia una ragazza con un pezzo di vetro. Tentata rapina nella notte. La vittima chiama il 113 e fa restare un 37enne. L'uomo ha aggredito anche gli agenti. Il giudice lo mantiene in carcere. E poi ancora barriere antiterroristi. Anche sulla pista ciclabile. I cittadini sollecitano altri blocchi di sicurezza. Ma vanno fissati a terra. Le parole di Piero Andrucci. Un'iniziativa utile anche se servisse a salvare solo una vita. Ma vanno tutelati dai tir. Non solo i pedoni ma anche chi va in bici. Poi il comune propone di colorarle. Il sindaco cancelleremo le scritte razziste. L'odio e la paura non vinceranno. Poi ancora intervista al direttore dell'Arta. Quest'anno il mare è pulito. Ora si lavori sui depuratori. Chiavaroli. La qualità delle acque di balneazione è migliorata. Rispetto al 2016. I cittadini dovrebbero essere più attenti. No a fuochi e a rosticini sulla spiaggia. Mi chiedo se gli abruzzesi si facciano tante domande. Anche quando vanno in vacanza. E poi ancora. L'altra emergenza. Troppi rumori di notte. Controlli impossibili. E i bagni nei fiumi. È meglio non farli. Senza analisi sicure. Poi ancora brucia la collina. Paura a San Giovanni Teatino. Due incendi sono divampati nel pomeriggio. Pioggia di cenere sulle abitazioni. Residenti evacuati. Probabile l'origine dolosa. Andiamo avanti. Siamo alle pagine di Monte Silvano. Il tema è ancora quello dell'immigrazione. Ecco chi si è integrato. Sono quasi 5.000 gli stranieri regolari residenti in città. E il 9% della popolazione paga l'Atari per un milione di euro. Le comunità più numerose arrivano da Romania e Senegal. E qui abbiamo un grafico riepilogativo della popolazione straniera a Monte Silvano. Dal 2004 al 2016 con il dato ultimo 4.828. Quindi i quasi 5.000 stranieri regolari. E poi di spalla il progetto toponomastica sia al riordino per ridurre l'evasione fiscale. Andiamo avanti. La demolizione contestata. Siamo a Francavilla. Qui si abbatte la sirena e si incentivano i privati. I consiglieri del centro-destra, Mantini e Damario di Forza Italia contestano il sindaco. Luciani acceleri i lavori anche per mettere in sicurezza le scuole. Noi siamo tornati effettivamente a Francavilla per tornare a parlare dell'abbattimento di Palazzo Sirena e dell'apertura dell'inchiesta da parte della Procura. Allora ascoltiamo il sindaco Luciani. Il sindaco Luciani continuano le polemiche sulla demolizione di Palazzo Sirena. C'è anche quest'inchiesta che è stata aperta dalla Procura della Repubblica di Chieti. Non è la prima inchiesta che subisco. Forse da quando faccio il sindaco sarà la decima. Fino ad ora tutte si sono concluse con archiviazioni. Non ho dubbi che anche questa si concluderà con l'archiviazione. Ma io voglio che il magistrato approfondisca. Così quando sarà terminata chi ha fatto quella denuncia e chi fa gli esposti avrà l'ennesima prova che noi facciamo le cose seguendo la legge, facendole bene, senza nessun dubbio. Per fortuna, lo ripeto spesso, faccio l'avvocato perché se avessi fatto un altro mestiere il sindaco di Francavilla forse in questo periodo così contrastato non avrei potuto farlo. Si parla anche di spese che sarebbero state sostenute dall'amministrazione comunale di Francavilla sul vecchio Palazzo Sirena negli ultimi mesi, prima di questa demolizione. Siccome non sanno più cosa inventarsi, ora hanno trovato delle determine di manutenzione e di spese. Io rincaro la dose. Non è che abbiamo speso 3-4 mila euro, abbiamo speso 600 mila euro. Ma le abbiamo spesi dove? Nel Palazzo Sirena. Ma questo lo sanno tutti i cittadini perché la torre che vedete alle mie spalle, che è il Palazzo Sirena, contiene all'interno un auditorium che ha una sala multimediale perfettamente ristrutturata, un suo ascensore, delle sue scale. Abbiamo già fatto tre commissioni pubblici spettacoli per dotarla finalmente dalla data della sua costruzione di agibilità. Quindi altro che 6 mila euro di spese. Ne abbiamo spese tante di più. Però capisco che proprio non c'è più argomento, non esiste più un qualcosa che abbia un minimo di razziocinio. E vabbè, ma noi continuiamo con la nostra strada, come abbiamo sempre fatto, con l'affetto di tutti i cittadini. Messe da parte le polemiche con Sgarbi e con l'onorevole Gianni Melilla? Sì, io mi scuso anche. Mi scuso anche se ho perso un attimo le staffe con l'onorevole Gianni Melilla perché l'ho detto in più interviste. Mi è dispiaciuto il fatto che lui non mi abbia chiamato personalmente e ancora oggi non lo faccio per chiedere spiegazioni. Però detto questo, Gianni, io lo considero un amico, abbiamo avuto un diverbio. In politica ci sta, ci sta tutto, ci sta anche questo. Per quanto riguarda Sgarbi, Sgarbi chi? Perché non mi risulta che sia un'istituzione, non mi risulta che sia nulla Sgarbi. Quindi voglio dire, fare la polemica con Sgarbi è proprio una cosa che non mi appartiene. Proseguiamo in 200 per aiutare Deborah, donna invalida al 100% senza assistenza, pedalata di solidarietà a San Buceto. Siamo nella Val Pescara, bonifica bussi, non si può più aspettare aumento dei tumori, alberi e ambienti contaminati, residenti sempre più preoccupati per i dati delle agenzie Arsa e Arta. In taglio medio, diga di penne nel piano da 61,3 milioni, l'invaso artificiale inserito tra le opere finanziabili nel piano pluriannale del governo con hashtag Italia Sicura. Siamo alle pagine Aquilane, Porta Santa e Perdono, l'Arcivescovo invita Papa Francesco in città. Petrocchi consegna un messaggio al Cardinal Bassetti prima del rito d'apertura della Basilica di Colle Maggio. Lo aspettiamo per l'inizio dei lavori della cattedrale. E poi in basso, appicca il fuoco a un appartamento a Tagliacozzo, le urla di un 48enne romeno evitano il peggio, le fiamme si stavano avvicinando al gas. E poi ancora a Sulmona, incidente durante il rogo volontario colpito da un masso, è grave, un trentenne in rianimazione ferito durante lo spegnimento del fuoco sul Morrone, minacciate due frazioni di Sulmona. Invece a Scanno il comune ripulisce l'isola ecologica, l'iniziativa dopo la segnalazione del centro. Il sindaco Spacone, multe fino a 900 euro a chi trasgredisce. Pagina di Chieti, scacco alla gang, rapine e truffe agli anziani, due arrestati a Chieti. Ultimo caso, qualche settimana fa i danni di un contadino di Brecciarola. La polizia cerca un complice. Allora abbiamo realizzato un servizio ieri proprio in merito a questi due arresti. Nasce come truffa ma poi si trasforma in rapina. Semplicemente perché due persone hanno avvicinato con una scusa una persona che stava curando il suo orto, una persona di più o meno 70 anni, forse qualcosa in meno, con una banale scusa dicendo che cercavano una non meglio precisata persona. La vittima ha risposto che non conosceva questa persona. Allora la signora si è avvicinata, spacciandosi per un'operatrice sanitaria, una persona della ASD, e cominciato a tastargli il collo dicendo al signore che aveva i linfonodi ingrossati. Nell'occasione però con molta abilità gli slacciava una catenina d'oro, impossessandosi. La vittima se ne accorgeva, reagiva prontamente. A quel punto interveniva il complice, sferrava prima un pugno alla vittima, successivamente non contento, con un tondino di ferro lo percoteva le gambe. E poi dopo quest'ultima azione criminosa si allontanavano di corsa, entravano all'interno di una macchina dove c'era un complice da attenderli, e poi ovviamente si davano precipitosa fuga. Il terzo complice è ancora in via di identificazione, però siamo riusciti a identificare i due, che sono due persone di Etrina Rom, precisamente due cugini. La donna è stata arrestata a Fossa Cesia, mentre l'uomo è stato arrestato a Montesilvano. L'indagine è stata breve ma intensa. Innanzitutto c'è stato un primo intervento della volante che ha raccolto la prima deposizione della vittima. Successivamente, grazie a alcune immagini riprese da alcuni impianti di videosorveglianza e alcuni esercizi commerciali della zona, siamo riusciti a capire il modello dell'autovettura con la quale si erano allontanati. Sono due persone gravate di diversi procedimenti penali per reati dello stesso tenore e quindi riteniamo che possono aver colpito anche in altre occasioni. Andiamo a chiudere con la pagina terramana del centro. Tragedia a Cerrano, inchiesta chiusa. Bimba annegata, la madre sotto accusa. Nicole, morta a cinque anni, il PM chiede il giudizio per la donna che era in spiaggia e per il bagnino in servizio in quel tratto. E poi caos sulle frasi leghiste del segretario del PD, il politico di Alba Adriatica contro la vacanza italiana dei migranti. I vertici regionali vogliono espellerlo. Le parole del segretario regionale Rapino, parole che ci indignano. La commissione di garanzia del partito prenderà una decisione. Poi in basso, l'uomo Oplasmon batte se stesso dalla Croazia a Giulianova, 27 ore e mezza, per attraversare l'Adriatico a Remi. Ci fermiamo, ora spazio alle previsioni del tempo e alla pubblicità. Poi la seconda parte di mattino 6. Buongiorno, riprendiamo la nostra rassegna stampa con il messaggero Abruzzo. Giorni di fuoco, incendi d'Alfonso, chiede aiuto al premier Gentiloni. Roghi Dolosi, accesi a ripetizione, l'allarme non solo più sul Morrone, opposizioni contro il governatore. Lui chiede l'invio di altri Canadair, la situazione drammatica che riguarda ormai tutte e quattro le province. E poi sul fronte turismo, la Asso Balneari conferma il boom di agosto, ma i problemi sono tanti. Le pagine di Pescara, pesce fresco in tavola dalla Croazia, con il fermo biologico, i fornitori vanno sull'altra sponda dell'Adriatico, si annunciano rincari dal 20 al 30%. Barche abruzzesi ferme fino all'8 ottobre, ma le piccole escono e cozze e vongole si continuano a pescare da noi. Il criterio del blocco non ci convince, deve essere coinvolta l'intera filiera, dice Riccardo Padovano di Confcommercio. E poi le parole di Angelo Dorazio, nessun problema dall'11 settembre. Tornano in attività le marinerie a nord e a sud dell'Abruzzo. E allora, a tal proposito, ascoltiamo il punto di vista della marineria pescarese sul fermo biologico. Quali sono le problematiche che al di là del fermo siete costretti ad affrontare giorno dopo giorno? Punto molto ma molto delicato a riguardo ai lavoratori dipendenti e anche a riguardo alle imprese, perché dobbiamo prendere ancora il fermo biologico 2015-2016. Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, ecco, il mese di agosto è stato un mese molto ma molto povero, pieno di una crisi che noi già sapevamo. E quindi ora per riavere uno stipendio accettabile dovremo aspettare la fine di novembre, perché tornando in mare l'8 ottobre, anche la prima settimana di ottobre, non possiamo lavorare. Poi ulteriore situazione molto gravosa è data dal fatto che noi fermiamo insieme al terreno, cosa che non è mai accaduta. Gli altri anni noi fermavamo ad agosto e il terreno fermava a settembre. Ora invece fermiamo tutti e due a settembre e torniamo tutte e due le marinerie adriatiche e tirrene nello stesso periodo torneremo in mare. Quindi non sarà un esplaco come gli anni scorsi. Questo è un altro indice di chi poi non è competente a riguardo della problematica del mare, perché non è che si risolve il problema dei pescatori o del mare con dei fermi che non stanno in gelo né in terra come quello di quest'anno. Sempre sul messaggero, il sindaco di Pescara, Street Art, sulle barriere e ordine di cancellare le scritte razziste. Accolta la proposta della consigliera Daniela Santroni di ricorrere all'arte per alleggerire l'impatto visivo. E poi in basso, Pescara si fa bella nel nuovo film di Della Sciucca, il pescarese co-fondatore della start-up londinese HBF sugli schermi a fine anno. Andiamo alla pagina successiva, sempre a Pescara, abbiamo la cronaca aggredita di notte sulla riviera. La ragazza aveva parcheggiato l'auto ed è stata minacciata per soldi da un marocchino armato di un coccio di bottiglia. La vittima ha chiamato la polizia, l'uomo è stato arrestato per tentata rapina e ha reagito agli agenti con calci e pugni. Poi le parole di Riccardo Ciferni dello stabilimento Trieste. In giro c'è tanta disperazione, ma la violenza non si giustifica. Vedo un problema di sicurezza. Andiamo ora alle pagine dell'area metropolitana di Pescara. Francavilla, case al posto degli hotel. Una decina di domande per il cambio di destinazione d'uso. Funziona la ricetta del comune con gli sconti sul plusvalore. Cambio di strategia sul fronte delle strutture turistico-ricettive. Palazzo Sirena è demolito. Consigliere chiede le carte dell'appalto. Elena Petruzzi per rilanciare il turismo. Bisogna fare rete potenziando le infrastrutture. Poi ancora a Montesivano strade numeri civici chiari per stanare gli evasori. Il sindaco Maragno riorganizza il sistema per evitare errori di notifica. Siamo alle pagine Aquilane. Perdonanza, il corteo conquista la città folla lungo il percorso toccante. L'omeria di Bassetti, ferite ancora sanguinanti. Aperta la porta santa della Basilica per ottenere l'indulgenza. Quest'anno meno presenza di delegazioni storiche ospiti ma più gruppi del territorio. In rappresentanza del governo c'era il sottosegretario alla difesa Rossi fra le autorità anche Gianni Letta. In basso la bolla restaurata esposta nella sede della Banca d'Italia. La reliquia ripulita e sottoposta alla fissazione dell'inchiostro sulla pergamena. E poi sempre a L'Aquila centrale unica del 118 lavori entro un anno. Il manager dell'ASL Tordera a fine settembre il progetto subito dopo l'appalto. Abbiamo a disposizione 6,4 milioni. L'annuncio durante la cerimonia dedicata ai soccorritori precipitati con l'elicottero durante la tragedia di Rigopiano. Poi ancora la commemorazione è stata preceduta da un convegno sulla montagna come vera scuola di vita. Poi Porta Santa stasera il rito di chiusura. Poi Ermalmeta canta a Collemaggio. Previsti oggi gli ultimi eventi in attesa della Maratona Jazz che si svolgerà il 3 di settembre. Per la cronaca prostituta rapinata l'indagato scagionato dalle celle telefoniche vuote è un testimone. Secondo la difesa il giovane sarebbe caduto in una trappola. La squillo ha rubato il mio portatile e poi ha inscenato l'aggressione per poter sfuggire alla giustizia. Siamo ora nella Valle Peligna il fuoco circonda la Valle Peligna le fiamme sono tornate ad avanzare sul Morrone adesso minacciano il centro abitato di Bagnaturo un nuovo fronte incombe su zona Pineto a Pacentro e il Parco della Maiella non accettano il nostro aiuto. E sempre a Sulmona apertura scuole i genitori protestano l'11 settembre andremo in comune i MUSP che dovrebbero ospitare i bambini della Masciangeli e della Collodi non sarebbero delle misure giuste. Pagina di Chieti la cronaca ancora in manette per botte e rapina pericolosa squadra d'azione carcere per i due rom che hanno derubato e ferito un anziano a Brecciarole il 2 agosto scoperti dalla polizia il GIP usata a violenza e ferata sono professionisti del crimine. Poi di Spalla leggiamo sempre per la cronaca si schianta in motorino grave un diciottenne auto di una famiglia si ribalta in autostrada colpo di sonno tre feriti bimba in ospedale e poi in basso appalto per i rifiuti stabilite le procedure è una convenzione siamo sempre a Chieti una convenzione da 7 milioni all'anno i dettagli nella delibera comunale poi tornando alla cronaca ladri nella villa negli appartamenti maxi colpi portati via oro e gioielli per 20 mila euro malviventi in azione con i proprietari che dormono è vasto acqua chiesta l'emergenza nazionale ieri in comune vertice tra le istituzioni coinvolte le municipalità colpite duro dalla quasi totale carenza idrica della Liga di Chiauci da domani entrano in azione le autobotti della protezione civile che trasporteranno il liquido al potabilizzatore Arap di San Salvo le parole del sindaco Menna la dispersione si attesta al 50% il sindaco Magnacca di San Salvo abbiamo fallito a tutti i livelli andiamo ora a chiudere con il messaggero Abruzzo con la pagina Teramana Brucchi è pronto a dimettersi dopo la riapertura delle scuole se non ci saranno colpi di scena l'addio è previsto già prima di ottobre ormai la maggioranza non esiste più niente numeri per il bilancio e non solo vertice romano con Errani per i MUSP non sarà un semplice container e poi ancora la struttura sarà collocata nella zona dell'Adalessandro convocata per oggi la riunione tecnica in basso a Giulianova emergenza a casa le prime assegnazioni coinvolge famiglie o singoli individui momentaneamente in situazioni di disagio economico e sociale ad Atri ampliamento della discarica contro Italia Nostra e WWF lasciamo dunque la pagina teramana del messaggero Abruzzo andiamo a sfogliare le pagine della città e ripartiamo con la vicenda scuole sicure sempre a Teramo ovviamente con Spinozzi spunta l'idea del polo San Gabriele proposto al sindaco prima della richiesta di MUSP competerebbe il parcheggio mai terminato lungo il parco fluviale nei pressi della scuola ad Alessandro sul lungo fiume i MUSP come previsto dal sindaco potrebbero rappresentare il primo modulo del progetto all'acqua viva e poi ancora polo San Giuseppe tra la scuola omonima inagibile per il terremoto e gli spazi del vecchio stadio comunale appunto ci sarebbe il polo San Giuseppe per il polo sarebbero già previste due distinte linee di finanziamento di Spalla leggiamo anche i MUSP terramani come quelli di Mirandola in Emilia niente container saranno definitivi e integrabili con il polo dell'acqua viva avanti ancora siamo alla cronaca Sant'Atto a casa vendeva cocaina e marijuana 25 anni terramano arrestato dalla polizia patteggio un anno e 8 mesi e 6 mila euro di multa ora la politica Gatti e Sottanelli prove tecniche di alleanza i due politici pizzicati a cena da manetta a roseto intanto Pavone lascia Tancredi per accasarsi con i civici tornando a Teramo locali commerciali chiusi per il caro affitti l'assessore al commercio replica al ristoratore emigrato in Germania intanto fotografa la situazione difficile la proposta sogno sgravi fiscali ai proprietari che tagliano gli affitti alle attività l'idea a tempo ormai scaduto dell'assessore andiamo avanti ancora siamo alla vicenda degli incendi in provincia oggi serve più tempo per domare i roghi il comandante dei carabinieri forestali fa il punto sugli incendi procedure più complesse e carenza di personale l'appello Mancini chiede aiuto ai cittadini per avere elementi utili sui piromani che hanno colpito in provincia sono due le tipologie del piromane quello che lo fa per puro piacere personale chi cerca di far scappare gli animali per poi cacciarli e poi il bilancio della giornata di ieri ancora fiamme a Civitella Torricella e sulla bonifica vigili del fuoco impegnati nella bonifica delle zone più impervie della montagna allora il bilancio il punto sulla situazione nel terramano nel servizio nel terramano il fuoco sta divorando ancora Monte Foltrone e già sono 15 gli ettari andati distrutti mentre se ne contano 10 di ettari appena devastati dalle fiamme a Santo Stefano di Torricella Sicura incendi dolosi ormai è cosa certa che inquietano fortemente la popolazione chi potrebbe mai concepire un tale piano folle e criminale torna così prepotentemente il tema della maggiore prevenzione sugli incendi boschivi compito svolto da sempre dal corpo della forestale che recentemente però ha subito un depotenziamento per essere accorpato ai carabinieri per il sindaco di Torricella Dalliene Palumbi il territorio ha perso così sentinelle preziose ed ora si deve ripensare ad una nuova strategia di vigilanza questa mattina ho parlato con il coordinatore della protezione civile signor Golia a Carmine mi ha detto che la situazione è a Santo Stefano quindi a Montefano mi è abbastanza sotto controllo c'è qualche fumaiola che ancora è acceso però non c'è pericolo né per le abitazioni né per le strade vi siete fatti un'idea di chi può accendere questi fuochi io non non faccio l'investigatore quindi non è che posso sapere chi accende i fuochi credo che la maggior parte sono di origine dolosa e quindi naturalmente la questione un po' mi preoccupa io d'altronde sono stato sempre contrario al togliere il corpo forestale dello Stato tant'è che nel 2015 il Consiglio Comune di Torricella aveva già fatto una delibera a tutela della conservazione del corpo forestale dello Stato secondo me hanno sbagliato a toglierlo perché oggi a Torricella abbiamo il comando stazione i quali comunque non fanno più quel servizio che facevano una volta prima facevano un servizio di prevenzione e repressione loro andavano a fianco dei vigili del fuoco oggi questo non avviene più e secondo me è stato un errore e oggi lo stiamo pagando io quello che dico ai cittadini insomma chiunque ha delle notizie delle indicazioni di segnalarlo al comune e così cercheremo comunque di beccare qualcuno ripeto se tutti quanti insieme siamo attenti riusciamo a fare qualcosa altrimenti solo le forze dell'ordine e il comune non riusciamo a fare nulla avete pensato di mettere delle camere per esempio sulla strada? lo stiamo già facendo questo l'abbiamo già fatto e lo stiamo facendo ancora cercheremo ancora di incentivarlo devo dire una cosa abbiamo da un anno che abbiamo il modulo antincendio come protezione civile devo dire che sta lavorando a ritmo pieno incendi vengono segnalati non solo a Monte Foltrone e Santo Stefano di Torricella Sicura ma anche a Magnanella e a Nerito di Crognaleto una montagna meravigliosa presa di mira da piromani impazziti a cui le forze dell'ordine stanno dando una caccia senza quartiere la città pagina 14 migranti rapino viviani ingiustificabile anche il segretario regionale del PD stronca senza mezzi misure le uscite del segretario dem di Alba Adriatica ecco lo screenshot del post incriminato sotto inchiesta sarà la commissione di garanzia del PD a decidere quali saranno le eventuali misure da adottare e poi a Giulianova affidato il progetto del nuovo Cursal la commissione giudicatrice sceglie l'architetto Cristian D'Antonio il piano per i 18 alloggi residenziali in centro è stato affidato all'ingegnere Roberto Di Ascenso e poi ancora a Roseto strisce blu ai turisti piacciono ai residenti molto meno il vice sindaco Tacchetti fa il bilancio della sperimentazione e annuncia ulteriori correttivi per l'estate del 2018 sul lungomare finirà a metà settembre sulla nazionale invece si dovrà attendere la fine dell'anno il frazionamento dell'ora come richiesto dai cittadini dopo le polemiche è stato apprezzato e poi ancora ad Atri i democratici chiedono un consiglio contro l'ampliamento della discarica si rafforza il fronte contrario alla scelta del commissario Alessandro Italiani secondo i piani del consorzio la discarica di Santa Lucia dovrebbe essere ingrandita di nuovo e andiamo avanti con le pagine dello sport Teramo 48 ore per completare la rosa il pareggio esterno di Portoguero lascia ben sperare ma servono delle pedine per l'organico Sansovina ancora in lista di partenza Barbuti in bilico poi ancora per la serie di Coppa Italia eliminata la Virtus San Nicolò i biancazzurri di Campanile sconfitti all'Aquila da una rete di Brenci domenica parte il campionato la squadra Teramana dovrà vedersela all'esordio contro l'Olimpia Agnonese al Civitelle prima di vedere centro e messaggero diamo uno sguardo alle prime pagine dei principali quotidiani nazionali di sport siamo sulla Gazzetta Mercato ultimi tre giorni Schick Delirio Roma e Keita dove va l'interrogativo della Gazzetta e poi di Spalla Super Spagna Italia Magia e Gole Coasensio contro Belotti e poi l'analisi di Fabio Licari c'è un progetto oltre il big match in basso ancora lo spazio per il moto mondiale dovizioso il normale che si scopre speciale poi altri appunti di mercato dove è quasi bianconero Spinazzola ora è un caso un centrale per Spalletti Mustafi la prima scelta De Laurenti non molla Reina resta Sarri ritrova il suo leader il corriere dello sport ed è Juve insaziabile lo Schalke si arrende il difensore tedesco da Allegri preso Ovedessa salto a Keita pressing per Gomez e Spinazzola e poi sotto la testata il colpo che entusiasmo a Roma è già arrivato Schick ecco la squadra giusta e poi in basso Napoli c'è Suarez colpo Champions l'asso del Barca in prima fila Reina PSG non si fa e poi ancora per la prima pagina di tutto sport Ovedes acciaio tedesco per la Juve e poi sotto la testata Toro Summit con Milan e Raiola Nyang e Lora Inter un jolly per Spalletti Sissocco e adesso torniamo al centro andiamo a vedere le pagine dello sport una due pagine in realtà sul Pescara partenza col botto gol emozioni e spettacolo questo Pescara fa già sognare la cinquina rifilata al Foggia ha riacceso l'entusiasmo della tivoseria Biancazzurra l'impronta dell'anatore appare chiara ma bisogna perfezionare i meccanismi effetto Boemo Zeman non passa mai di moda e la squadra sembra ancora al 50% contro il Foggia 12.672 spettatori scoppia di nuovo la passione dell'Adriatico secondo stadio più gremito della Serie B a proposito di Serie B ieri nel posticipo il Bari ha battuto il Cesena 3-0 nel derby pescarese in panchina Grosso ha avuto la meglio su Camplone e poi ancora sempre in questa due pagine sul Pescara pigliacelli parate uscite e lanci precisi ecco il prototipo del portiere Zemaniano e poi alla scoperta del bomber i segreti di Pettinari dai video di CR7 filo al riso alle verdure di papà Luciano e sul fronte mercato c'è Vitale se parte Brugman slitta la firma di Golubovic il Benevento ufficializza Memushai avanti ancora siamo alla serie C Teramo segnali positivi carattere gioco ci sono e Asta aspetta un rinforzo buona la prova anche del portiere Calore che ha vinto il ballottaggio con Lewandowski domenica turno di riposo poi la sfida di Vicenza per quanto riguarda i direttanti sostituzioni e sponsor quante novità ieri i calendari di eccellenza e promozione parte la stagione che dà il via ai 5 cambi e la Figgici Abruzzo lega per la prima volta la propria immagine a una azienda e andiamo a vedere tra l'altro la prima giornata del campionato di eccellenza queste le partite della prima giornata in particolare il Giulianova farà il debutto in casa contro il Paterno mentre invece per il Chieti ci sarà la gara all'Angelini contro l'Alba Adriatica sono le due squadre chiamate ad un campionato da protagoniste Chieti e Giulianova rapidamente anche con il messaggero Abruzzo ecco qui Pescara 5 motivi per crederci la vittoria sul Foggia ha messo in mostra un grande talento offensivo ma anche uno Zeeman meno spregiudicato del solito da migliorare soprattutto l'organizzazione difensiva importante il recupero di giocatori come Mancuso e Benalì per il momento meno aggressione più contropiede anche per le caratteristiche dei difensori da oggi la prevendita per Perugia e sul fronte mercato ecco qui Benevento su Zampano l'Inter libera Van Ovisden che potrebbe essere il rinforzo last minute per la difesa il protagonista di quest'ultima domenica Pettinari bomber a sorpresa imitando Immobile ha scelto anche il numero 17 come il Laziale sta conquistando finalmente l'Adriatico e poi ancora sul fronte Lega Pro Varas bravo Teramo ma è soltanto l'inizio il centrocampista soddisfatto per il pari di Mestre abbiamo giocato un buon calcio e creato tante occasioni c'è da essere soddisfatti visto che la forma deve ancora crescere e poi sul fronte del basket problemi a Roseto Nelson probabile taglio inconveniente fisico per l'esterno forse già oggi la decisione sul fronte Campli roster completo con l'arrivo di Ballabio in Serie C col paccio del Mosciano preso il centro Webster noi ci fermiamo qui con la rassegna stampa di mattino 6 io ringrazio in regia Silvia Gentile ringrazio voi per la cortese attenzione vi ricordo gli appuntamenti con i nostri notiziari alle 14 alle 19 alle 23 con il TG6 e questa sera anche la prima puntata stagionale di Proteramo con la conduzione di Jacopo Forcella alle ore 21 grazie ancora e buona giornata 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 e buona giornata